Sì, vi ricordo cosa stavate dicendo, naturalmente non parliamo di Atac, di trasporti, ma abbiamo preso in prestito un autobus per le vie della città, siamo nel centro storico di Roma, abbiamo colorato di giallo appunto per raccontare questo momento 5 stelle in viaggio, nonostante qualche percorso accidentato e non parliamo soltanto delle ormai famose buche di Roma. Allora cerchiamo di, per questo coinvolgiamo un po' tutti i nostri ospiti per capire chi c'è all'interno di chi è a bordo, Grillo possiamo immaginare che sia qui al volante, poi c'è il direttorio, eccoli qui i protagonisti, c'è Di Maio, c'è Di Battista, c'è Fico in primissimo piano, abbiamo visto anche come Carla Ruocco abbia detto la sua rispetto appunto al fatto che non era a conoscenza della situazione giudiziaria dell'assessore Muraro e poi naturalmente lei, c'è Virginia Raggi, poi fedelissima, appunto abbiamo anche appreso visto che la difesa strenuamente in queste ore è l'assessore Muraro, in bilico abbiamo visto come ci sia il neoassessore al bilancio De Dominicis come il vice capo di gabinetto Marra e Salvatore Romeo il capo della segreteria, poi mettiamo qui in fondo e qui ci torneremo una che non fa parte del direttorio nazionale ma che in questa vicenda, l'abbiamo visto anche rileggendo i messaggi, quelle mail, ha avuto un ruolo importante in relazione all'altra figura che è quella di Di Maio. Allora Federica dimmi tu con chi possiamo partire per capire chi ha diciamo punti e meriti per poter stare in questo autobus dei 5 Stelle e chi secondo voi, partiamo da Barenghi visto che era lui che stava per intervenire, chi è ancora in bilico e chi può essere in bilico? Allora Muraro è dentro o fuori? Muraro è sul predellino, sta scendendo. La mettiamo qui? Eh mettiamo la lì sì. Ok, Raggi ancora in sella quindi nonostante le cose si riempiono. Raggi come diceva Giacchetti prima e come penso anch'io è stata votata da 700 mila mi pare romani e non è che dopo due mesi si può e si deve dimettere per cose gravi ma che non... no, lei deve continuare a governare provandoci poi se non ci riesce si dimetterà dopo, quindi Raggi è ancora lì. Allora Fo, secondo lei, le altre persone in bilico, mi ha detto il predellino, ho utilizzato questo termine un po' berlusconiano, se mi permette Barenghi. Esatto, esatto, me l'ho fatto apposta. Allora, no, tornando a noi, Marra, il neo assessore al bilancio, le altre devono restare ancora in sella, le abbiamo messe un po' in fondo all'autobus, insomma come si usava diciamo prima in gita, quelli un po' più scalmanati discoli in fondo, hanno ancora pieni poteri per stare su, su quest'autobus e poi il movimento potrebbe lasciarli per strada. Mi dispiace ma mi astengo da questo dettaglio perché non saprei proprio cosa rispondere, non sono dentro la giunta e non so dirvi. Giacchetti. Guardi, io non mi occupo dei trasporti altrui, l'unica cosa certa è che Grillo non può guidare, come lei sa. Eh vabbè, lei fa riferimento a, insomma, non può guidare gli ristituzionali. Ha un precedente importante e delicato. Vabbè, questo è un colpo basso. Che caduta, che caduta, che caduta, ma dai, questo è vergognoso, su. Ma che vergognoso, è la verità, ragazzi. È un gioco virtuale. Parliamo di un incidente d'auto di qua 30 anni fa. Onorevole, sono gli scadigenti qua. Ah, salve, buongiorno. Buongiorno, posso chiederle se è stata presa qualche decisione? Eh, presto. Avete parlato, avete deciso. Grazie mille. Vi dovete riunire ancora, è finita la riunione. Credo che almeno il diritto di dormire lo devo avere, no? Quindi la riprendete, insomma, tra poco. Buona giornata, grazie mille. Grazie. Grazie, vederla. Mi approfitto per lasciare agli atti della trasmissione le mie scuse a voi, agli ascoltatori. Mi è partita una battuta e mi dispiace, insomma, quella su Grillo che mi dispiace. Rispetto appunto alla guida dell'autobus che abbiamo raccontato, come, so, a paragone, diciamo, di una piramide verticista.